ciao ragazzi e bentornati su hard rock crypto qui è muro per voi oggi voglio parlarvi di scale una rete blockchain modulare ultra veloce progettata per scalare ethereum senza nessun costo di transazione per sempre andremo a vedere le sue caratteristiche principali i suoi vari casi d'uso e infine cercheremo anche di capire il potenziale del suo token nativo skl ma prima di cominciare ragazzi se vi piacciono questi contenuti vi invito a spaccare il tasto del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per restare sempre sul pezzo e veniteci a trovare anche sui nostri social inoltre come sempre tutto quello che sto dicendo e che dirò in questo video non sono assolutamente consigli finanziari e fate sempre le vostre ricerche prima di investire ora possiamo tornare a scale e andiamo a vedere le sue caratteristiche principali innanzitutto zero gas fees per sempre scale infatti una rete blockchain on demand veloce e a scalabilità illimitata con zero spese per il gas e questo consente una rapida implementazione di chain interoperabili compatibili con la ethereum virtual machine senza compromettere sicurezza o decentralizzazione scale è una rete completamente decentralizzata open source e di proprietà della community scale nasce per creare un'esperienza di alto livello per giochi piattaforme nft e applicazioni web 3 con la sua integrazione nativa con ethereum aumenta la sicurezza e l'affidabilità e favorisce un flusso di entrate condiviso dando così valore a entrambe le reti poi si tratta di una chain modulare con una capacità della rete che aumenta con l'ingresso di nuovi nodi consentendo così una scalabilità illimitata poi qua ci fa un esempio con 100 chain si potrebbero raggiungere 39.770 transazioni al secondo con 1000 chain 10 volte più veloce quindi oltre 397.000 transazioni e così via poi una sicurezza condivisa scale è una rete multi chain con sicurezza condivisa ma non con prestazioni condivise poi eco friendly è una blockchain ecologica che utilizza una proof of stake efficiente per ottimizzare l'allocazione delle risorse di calcolo riducendo così gli sprechi poi l'archiviazione di file on chain per le daps consente siti web completi integrazione di intelligenza artificiale e archiviazione di immagini nft on chain e infine la finalizzazione istantanea dei blocchi su scale risolve la latenza e la lentezza che affliggono altre blockchain e ora arriviamo ai casi d'uso di scale innanzitutto puntano molto sul gaming per creare esperienze web 3 a misura di giocatore ma perché scegliere proprio scale per il gaming allora come primo punto a favore zero gas fees tutte le transazioni sono gratuite su scale anche il minting degli nft e questo è sicuramente un vantaggio per i giocatori poi un altro vantaggio la grandissima velocità che è fondamentale per il gaming non si può giocare se si aspettano minuti e minuti le conferme delle transazioni inoltre ci sono strumenti di sviluppo di gioco integrati come archiviazione file rng e ux ui nativi in modo da dare la possibilità di costruire più rapidamente e velocemente senza costi aggiuntivi ed è anche una chain configurabile in base alle esigenze e quindi per gli sviluppatori è possibile creare delle chain ad hoc proprio per i loro giochi tutto con un unico obiettivo cioè no lag no interruzioni solamente gameplay qua vediamo alcuni dei giochi già presenti nell'ecosistema di scale come stray shot che è uno sparatutto play to earn che tra l'altro è stato finanziato da due fratelli che giocano in nba tali lamelo e lonzo ball poi c'è questo untitled un platform multiplayer 32 bit quindi un gioco vecchio stile in due dimensioni un po come super mario per intenderci e poi c'è questo gamifly che è un metaverso sportivo che offre eventi di esports a tifosi e giocatori ma ce ne sono diversi altri sono andato nella lista di tutte le daps e vedete che filtrando per giochi ne troviamo 44 quindi andate a darci un'occhiata per vedere se trovate qualcosa di interessante e poi arriviamo un'altra delle caratteristiche fondamentali di scale riguardante l'intelligenza artificiale infatti grazie alle chain di scale è possibile potenziare l'intelligenza artificiale nella blockchain grazie a caratteristiche come l'assenza di gas fees e una finalizzazione immediata delle transazioni e queste qualità sono cruciali per le esigenze specifiche delle applicazioni ia consentendo loro di funzionare efficacemente sulla blockchain tra le principali caratteristiche ottimizzate per l'ia ci sono innanzitutto costi prevedibili e elevata produttività cioè le applicazioni ia necessitano di transazioni automatizzate ad alto volume che sono realizzabili solo grazie all'assenza di costi di transazione poi l'esecuzione di intelligenza artificiale negli smart contract infatti è possibile eseguire modelli di ia pre addestrati all'interno degli smart contract creando un ambiente sicuro e affidabile per l'esecuzione guidata dell'ia e infine finalizzazione immediata e zero mev le transazioni vengono finalizzate immediatamente dopo il loro avvio prevenendo così problemi come il front running e garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di ia sulla blockchain poi vediamo altri casi d'uso per scale abbiamo la dfai che sicuramente è piacevole senza costi di transazione poi ideale per il web 3 con questa possibilità di configurare le app chain per gli nft come dicevo prima il minting è assolutamente gratuito e con un tempo di transazione istantaneo quindi ottimo poi può essere anche una chain adatta per l'e commerce e infine potrebbe anche essere utile per le dao con un meccanismo di consenso sicuro che consente di prendere decisioni democratiche con votazioni in tempo reale a costo zero qua possiamo vedere i maggiori supporter di scale e ce ne sono diversi come harinton capital galaxy digital multi coin capital e ci sono di mezzo anche i gemelli winklevoss e ora arriviamo al token di scale l'SKL che svolge quattro funzioni principali per prima cosa serve per la convalida l'esecuzione e la sicurezza i token holders di SKL assegnano i loro token ai validatori che gestiscono i nodi che fanno funzionare la rete scale validando i blocchi eseguendo gli smart contract e proteggendo la rete poi serve per le tariffe di abbonamento per gli sviluppatori infatti gli sviluppatori acquistano l'accesso in abbonamento alle chain di scale utilizzando i token SKL poi viene usato anche come ricompensa per i validatori ricompense che vengono accumulate mensilmente in base alle tariffe pagate dagli sviluppatori per le chain e all'inflazione mensile dei token nella rete e infine l'SKL serve anche per la governance tra gli staking partner vedete tra gli altri abbiamo binance etherscan e okx token scale che attualmente ha un valore di circa 8 centesimi di dollaro con un più 191 per cento nell'ultimo anno una capitalizzazione di mercato di circa 430 milioni di dollari una circulating supply di circa 5 miliardi e cento milioni di unità che rappresenta il 73 per cento dell'offerta massima questo il grafico da quando esiste il token SKL e vediamo che ha toccato un massimo storico di un dollaro e 22 il 12 marzo del 2021 nell'ultimo bull market mentre il suo minimo l'ha toccato circa tre mesi fa con poco meno di due centesimi ultimi tre mesi molto positivi per SKL con un incremento di oltre il 400 per cento se andiamo a vedere lo storico della sua capitalizzazione di mercato vediamo come nell'ultimo ciclo abbia sfiorato il miliardo di dollari e ora non siamo neanche a metà e personalmente viste le sue caratteristiche penso che possa anche superare questi vecchi massimi se dovesse tornare al suo vecchio massimo storico di un dollaro e 22 raggiungerebbe una capitalizzazione di mercato di circa 6 miliardi di dollari che personalmente ritengo fattibile ovviamente ragazzi non sono assolutamente consigli finanziari sono solamente le mie idee in conclusione ritengo scale un progetto molto valido che deve ancora raggiungere il suo reale potenziale sia come utilizzo del network che in termini speculativi per quanto riguarda il token SKL in un certo senso incarna diversi trend che a mio parere saranno esplosivi durante il prossimo bull market innanzitutto è un'ottima soluzione per la scalabilità di ethereum un tema che sarà fondamentale nei prossimi mesi poi è una chain adatta al gaming per la sua velocità e l'assenza di costi di transazione e quindi potrebbe attirare diversi titoli interessanti con queste caratteristiche ed infine anche come strumento ideale per implementare il potenziale dell'intelligenza artificiale nella blockchain e con tutto questo mi viene da pensare che il token SKL potrebbe performare parecchio bene nel prossimo ciclo rialzista naturalmente vi ripeto è semplicemente il mio parere fate sempre le vostre ricerche fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di scale network e del suo token come sempre se vi è piaciuto questo video disintegrate il bottone del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati veniteci a trovare sui nostri social e alla prossima sempre qua su hard rock crypto iscrivetevi al canale! iscrivetevi al canale! iscrivetevi al canale!